I punti salienti in realtà sono quattro punti fondamentali, su cui poi si staglia tutto il programma, dove si basa tutto il programma. E sono, diciamo, quattro parole importanti e fondamentali, che sono la rigenerazione, perché noi abbiamo bisogno di una nuova vita, un nuovo dinamismo nei nostri paesi, che si è un po' perduto. La prossimità, perché la prossimità è necessaria per andare a portare i servizi vicino al cittadino, vicino alle comunità, e la fusione non deve essere un qualche cosa che toglie i servizi alla comunità, ma anzi li potenzia e li migliora. L'autenticità, l'altro fondamento del nostro programma, che è un modo di essere e un modo di fare rispetto alle cose, rispetto alle emergenze, rispetto ai progetti, rispetto al futuro di questi comuni. E l'autenticità come anche strumento di condivisione di tutte le peculiarità che il territorio ha e può metterlo insieme agli altri. Quarto fondamento è la cura della persona, la cura della persona che è l'interesse del nostro agire, il centro del nostro agire. Cioè tutti i tre fondamentali di prima, tutti i tre fondamenti di prima, che sono la rigenerazione, la prossimità e l'autenticità, hanno un senso, hanno un valore, se sono finalizzati alla cura della persona. Diversamente sono opere, sono strutture, infrastrutture che sono fredde e non hanno l'utilità per cui vengono realizzate. Ecco, la cura della persona è l'interesse del nostro agire, quindi tutto ruota attorno a questo. Quattro punti su cui si è focalizzata una candidatura che vanno a guardare a un modo diverso rispetto a quella che è stata la gestione di questi cardini, per quanto riguarda i cinque anni appena trascorsi. Beh sì, un modo diverso direi di sì. Ovviamente le persone sono diverse, il gruppo è diverso, abbiamo lavorato attorno a un programma, che è un programma inclusivo, che è un programma che abbraccia tutte le comunità e vogliamo dare proprio questo senso di serenità, di tranquillità e di possibilità per tutti di contribuire alla crescita di questo comune e di queste comunità nello specifico. Per cui, ecco, noi vogliamo veramente fare un appello anche in qualche modo alle persone che, al di là poi di quelli che saranno i risultati, ma si mettano in moto, si mettano in moto con un nuovo dinamismo all'interno delle comunità per renderle veramente più vive. Ecco, qualora fossimo eletti, come amministrazione noi ci saremo, ci saremo a fianco e anzi cercheremo insieme di costruire questo futuro.